beh se il dolce va servito al fondo della cena allora vi faccio vedere qualcosa di straordinario e anche perché oggi mi sento particolarmente fortunato vi faccio vedere la cameretta che scusate la fatica ma la porta è pesante come tutte le cose di qualità la cameretta che gentilmente mi hanno riservato allora guardate sicuramente gli spazi sono importanti i colori meravigliosi ci sono un sacco di dettagli che non riesco per motivi di tempo a farvi a farvi vedere tutto è in stile cuciterme assolutamente lusso vedete questa meravigliosa cabina armadio che è utile se uno ha un po di vestiti da sistemare il posto giusto ma punto di forza tenetevi forte guardate e voilà un bagno in lapis lazuli guardate che meraviglia facciamo un passaggio veloce la doccia rigorosamente con doppio soffione questa vasca da bagno che la dice decisamente lunga e poi si ritorna nel nel soggiorno dove tutto è allestito tutto è perfetto ma in realtà dovrò rinunciare a questa notte fantastica perché ho il volo che mi attende tra un paio d'ore quindi non mi resta che sognarla questa camera buon sogno a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.